Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Cosenza con la mia splendida cliente Yolanda Ciao ragazzi, ciao Yolanda Yolanda ragazzi vi voleva raccontare un po' come ha deciso e perché ha deciso di rivolgersi al metodo SSS sopracciglia Raccontaci un po' Yolanda Allora, avevo comunque dei problemi con le sopracciglia, spazi vuoti e usavo la matita quindi non mi vedevo E così Hai deciso di ricorrere quindi a questo metodo, come mi hai trovata sui social? Come mai hai deciso di affidarti a me? Eh perché ho visto parecchie recensioni, parlavano benissimo di te e quindi ho deciso di bene Sei soddisfatta del trattamento? Molto Adesso stiamo facendo anche ritocchi annuali, come lo trovi il trattamento? Ti piace? Sì, mi piace molto Bene, ti sentiresti di consigliare anche alle altre donne che hanno questa problematica di diradamento Che comunque vorrebbero migliorare la loro casa Certo, consigliatissimo Lo consiglio a tutte le persone che hanno comunque problemi di diradamento Bene, allora dici SOS sopracciglia? Sì SOS sopracciglia Ciao ragazzi Ciao Ciao